Buongiorno a tutti, sono con Alessia, anche lei ha scelto la nostra Tecna Dual, lei ha fatto una base scura e un effetto un po' più chiaro sulle punte. Adesso vi farò vedere l'effetto della Tecna Dual. Cambiando la riga, cambia il colore dei capelli, si trasforma, cambia la sua immagine. La Tecna Dual ti permette di cambiare a seconda della riga, da una parte all'altra di cambiare l'immagine dei capelli. Alessia, che cosa ne pensi della Tecna Dual? È una tecnica straordinaria che ti permette di cambiare look quando vuoi e per qualsiasi occasione. Grazie a te, grazie a te, ciao Alessia. Grazie, ciao.